Clemenza, ultimo atto della stagione regolare, c'è da blindare il quarto posto ma c'è anche da sognare il terzo, no? Certo, assolutamente. Il nostro obiettivo, come sempre, come tutte le partite, è portare a casa i tre punti. Domani è ancora fondamentale perché la classifica può ancora muoversi e noi siamo qui e domani saremo qui per portare a casa i tre punti. Clemenza, Dursi, Ferrari. Le certezze del nuovo corso di Zauri sono anzitutto questo tridente? Ma io dico che comunque sì, le scelte poi spettano sempre al mister. Noi siamo tutti pronti, in attacco siamo tanti e secondo me siamo uno più forte dell'altro. Quindi chi scenderà in campo non è importante, è importante che faccia lavoro per la squadra e che aiuti appunto la squadra. Lasciamo stare la partita di domani che è comunque importante. Nei play-off quanti gol con il sinistro a giro prometti? Spero, guarda, non ti dico il numero, ne dico tanti. Spero che siano quelli fondamentali per poter andare avanti. Dove può arrivare questo Pescara secondo te? Il Pescara può arrivare veramente fino in fondo perché la squadra è forte e abbiamo veramente un bello organico e siamo qui e siamo arrivati fino a qui per poter arrivare fino in fondo. Cosa è cambiato secondo te con Zauri in queste due partite e domani c'è la terza? Sicuramente abbiamo acquistato più serenità. In campo magari in alcuni frangenti dobbiamo essere ancora più cattivi e ancora più determinati a chiudere la partita. Però direi che comunque come lo eravamo prima, adesso ancora di più sappiamo della nostra consapevolezza di essere forti. Rispetto ad Auteri, cosa ti chiede di diverso a te personalmente, Zauri? Personalmente mi chiede di stare molto più dentro al campo per unire più il gioco e magari per girarmi, andare al tiro alla conclusione o comunque per imbucare. Mentre magari sull'altro lato dove cedursi gli chiede più profondità. Ti chiedo l'ultima con il sorriso, scherziamo posso? Di bala non rinnova la Juve. Mi dispiace un po' perché comunque perdere un campione così per la Juventus secondo me può essere determinante. Vedevo che tornasse Cremenza. Quello io lo spero sempre però vedremo.